Ultimi o quasi interventi in corso dall'assessore alla mobilità di Vicenza Claudio Cicero che in direttura di fine 2018 cerca di portare a casa i mutui necessari a far partire dal prossimo anno tante piccole rivoluzioni in città. Passa la delibera da 82.500 euro che vuole trasformare le barriere antiterrorismo in più eleganti fioriere adeguate sempre al compito e previa consultazione con prefettura e questura. Ma la rivoluzione passa anche per l'innovazione tecnologica che interesserà la ZTL cittadina attualmente i permessi in distribuzione del comune sono tra i 6.000 e i 7.000. Vogliamo fare un ulteriore passetto in avanti, vorremmo cercare di rendere più flessibili gli accessi e quindi le uscite della ZTL con questo nuovo sistema che rileverà la percorrenza dell'auto in ingresso ma anche la sua uscita. Così quando diamo dei permessi a ore sappiamo esattamente se l'individuo che ha avuto il permesso per restare per esempio fino alle 9.30 abbia veramente adempiuto a questo tipo di precetto. Insomma chi entrerà in ZTL avrà con il permesso un microchip che verrà registrato in tutti i nove varchi d'accesso e nei 18 di uscita. I furbetti della ZTL sono avvertiti. Noi daremo dei crediti di mobilità che stabilirà poi la giunta con proprio provvedimento dove diremo attenzione ti do 5 bonus ad esempio puoi scantinare tra virgolette 5 volte dopo la quinta volta ti ritiro il permesso. Costo dell'operazione 200.000 euro. Tra le diverse delibere anche i 50.000 euro che andranno per la modernamento dell'impianto semaforico tra viale 10 giugno, viale risorgimento e viale fusinato. La nuova centralina consentirà di monitorare il traffico e scandire a seconda del flusso dei veicoli il rosso e il verde.